buongiorno a tutti e bentrovati e benvenuti al 43esimo webinar di riconnessioni ci sentiamo ormai su questo canale da qualche mese da quando la chiusura delle scuole si è prolungata in tutta italia a causa dell'emergenza coronavirus la fondazione per la scuola appunto tramite il progetto di connessioni ha organizzato un webinar al giorno per affrontare e supportare docenti i docenti e scuole ad affrontare la crisi e sfruttarla in qualche modo anche come un'opportunità di riflessione formazione e crescita nei webinar abbiamo affrontato tematiche di vario tipo dalla didattica a distanza ed emergenza a tematiche invece che riguardano più l'organizzazione dei processi nella scuola oggi proseguiamo il nostro affondo invece su una disciplina insieme al progetto per contare parliamo di matematica è il terzo di una serie di webinar in collaborazione con la fondazione aspi appunto relativo al progetto per contare di cui poi approfondiremo tutti gli aspetti insieme ai nostri relatori prima di partire con il webinar un piccolo accenno a quello che è il progetto riconnessioni che è una delle più sese azioni sulla scuola digitale in Europa in Italia non solo è un modello di compagnia di San Paolo realizzato a Torino e Interland da fondazione per la scuola e invece realizzato e supportato nella provincia di Cuneo da fondazione CSC riconnessioni come vedete da questi questi punti nella slide agisce su vari piani porta la fibra ottica eh la connessione veloce nelle scuole coinvolge eh il sessanta per cento circa del corpo docente di tutta la città di Torino in percorsi di sviluppo professionale moltiplica le risorse alla disposizione del progetto eh attivando partnership collaborazione in pubblico private e sempre per investire sullo sviluppo delle scuole sullo sviluppo professionale dei docenti e promuove un eh nuovo modello pedagogico basato sulla relazione tra creatività innovazione e inclusione ehm quindi agisce fondamentalmente su due piani il primo riguarda l'innovazione degli spazi e dei tempi dell'apprendimento e quindi appunto lo sviluppo delle nuove professionalità nella scuola e il secondo un nuovo modello di connettività internet per eh assicurare e sostenere eh questo nuovo tipo di didattica eh prima di proseguire con le domande tecniche mi presento eh me lo dimentico sempre quando ehm quando insomma inizio a presentare i webinar io sono Chiara Ciosola e per il progetto di riconnessioni sono responsabile eh del coordinamento della formazione docenti ehm quindi proseguendo sulle questioni tecniche ehm qualche piccola indicazione eh per interagire con con noi e per seguire il webinar al meglio se guardate sulla destra dello schermo c'è un piccolo pulsantino con un punto interrogativo dentro eh cliccando su quel pulsantino accedete a una sorta di chat condivisa eh in cui potrete eh porre le domande ai relatori che verranno poi moderate da me e poste a voce durante la relazione insomma di oggi tutti i materiali ricordo che saranno poi disponibili sul sito di riconnessioni sia le slide che la registrazione del webinar per cui potete ehm come dire eh essere rilassati nel seguire eh come dire eh vi forniremo qui appunto tutti i materiali di cui parleremo eh invieremo al fine del webinar un attestato di partecipazione a chi segue la diretta che arriva direttamente all'email a cui da cui ci si è registrati al webinar se ci sono problemi su questo vi ehm eh o se ci sono stati precedenti webinar vi invitiamo a scrivere all'email riconnessioni chioccio alla fondazione scuola punto it e non in questa chat in modo da non intasare invece ehm nello spazio eh lasciando diciamo eh eh spazio appunto alle domande per i relatori ehm se ci dovessero essere problemi tecnici soprattutto con i segnali video visto il sovraccarico eh delle linee internet eh continueremo comunque in modalità audio quindi vi invitiamo a rimanere collegati e nel caso in cui i problemi dipendano dalla vostra connessione ehm vi invitiamo a uscire di entrare nel webinar e dovrebbe poi sistemarsi tutto ma eh passiamo a noi eh oggi appunto come dicevo eh dedichiamo il webinar al tema della didattica della della matematica eh insieme al progetto per contare che dal 2011 eh appunto è sostenuto dalla fondazione ASFI anche grazie a fondazione per la scuola ehm e eh appunto eh il tema di oggi è dedicato alle eh guide per le scuole alcune attività per le terze classi della scuola primaria che sono state sperimentate con alcune alcuni studenti e docenti in questo passato anno scolastico eh per cui passo eh la parola a Paola Angelucci eh che è appunto proprio della fondazione ASFI ci parlerà delle linee generali del progetto per contare per poi passare al tema specifico eh con Anna Baccalini Frank dell'Università di Pisa ehm Alessandro Ramplude e Silvia Funghi sempre dell'Università di Pisa ehm chiamo sul nostro stage la nostra Paola intanto ehm buongiorno ciao Chiara buongiorno e io sì vado vado bene il terzo webinar come diceva anche vaccennato anche Chiara eh un attimo che devo spostare la mia finestrina qui ok il terzo webinar che eh da maggio ehm stiamo tenendo proprio insieme sul sul progetto per contare quindi io ehm indicando insomma avendo il compito di illustrare le linee generali del progetto ecco ehm sarò un po' sintetica anche perché eh trovate tutto il dettaglio di quello che che riguarda quello che ci ha portati poi negli anni a proseguire questo percorso anche nel nelle presentazioni precedenti e in particolare nella presentazione del 5 di maggio eh prima però di parlare in generale del progetto due parole sulla fondazione Aspi ecco la mission di Aspi è proprio favorire l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola nel lavoro e nella società attraverso l'uso delle tecnologie informatiche io in particolare mi occupo di scuola e mi occupo eh del coordinamento del progetto Aspi quest'anno sì quest'anno compie 40 anni nel 2020 compie 40 anni e in in questi 40 anni sono state svolte potete immaginare insomma tantissime attività progetti di ricerche in azione eh parlando di scuola quindi con le scuole eh ci siamo occupati di studenti dall'infanzia all'università eh affrontando tutte le tutte le tipologie di difficoltà con lavorando a stretto contatto con gli esperti del settore e ehm queste sono alcune immagini che rimandano ai progetti eh le iniziative eh cui stiamo lavorando in modo particolare recentemente eh quindi sul tema della scuola cooperativa collaborativa inclusiva con l'uso del dell'intelligenza artificiale coding robotica educativa e così via. Per quanto riguarda invece le difficoltà di eh di apprendimento quindi disturbi specifici di apprendimento Aspi si occupata di questo tema in modo pionieristico ehm ancora prima che in queste difficoltà fossero così conosciute. Tante iniziative e tanti progetti ehm sono stati svolti sul tema della dislessia dal monitoraggio delle competenze allo sviluppo di ehm alla partecipazione eh nello sviluppo di ehm di strumenti e ausili informatici per sostenere e facilitare lo studio e ehm e poi nel duemila e dieci abbiamo iniziato ad occuparci di difficoltà in matematica perché sia le scuole sia le famiglie evidenziavano proprio questa questa esigenza rispetto a una ricchezza dall'altra parte di proposte sul tema della dislessia. Quindi eh proprio sulla base di questo questi presupposti nel duemila e undici nasce il progetto per contare. Il progetto eh si basa sulla mh sperimentazione di proposte didattiche eh al fine di realizzare delle delle guide di supporto alla didattica della matematica mh con modalità inclusive. Ehm il progetto ha visto una prima fase nel periodo duemila e undici duemila e quattordici ehm che ehm ha visto insomma la realizzazione e la costruzione di guide didattiche multimediali fruibili online e gratuite lo sottolineiamo sempre per le classi prima e seconda della scuola primaria. E chi ha lavorato? Qual è stato il gruppo diciamo che ha lavorato a questo questo prima questo primo progetto naturalmente c'era la fondazione Aspi come responsabilità e coordinamento e referente scientifico all'università di Modena e Reggio Emilia con il sostegno della compagnia di San Paolo e il supporto operativo della fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo. Per quanto riguarda i referenti scientifici ehm abbiamo avuto la professoressa eh Bartolini Bussi e Anna Bacaglini Frank come segnista e negli anni duemila undici duemila e quattordici alla sperimentazione hanno partecipato scuole di queste due regioni Piemonte ed Emilia Romagna. Ecco in tutti questi anni dal duemila e quattordici eh ad oggi ehm la ricerca ha dimostrato che l'impostazione didattica di questo progetto porta ad una significativa riduzione del numero dei bambini con difficoltà e in modo particolare gli insegnanti in modo io lo dico sempre anche in modo abbastanza pressante ci hanno sollecitato a proseguire questo percorso anche perché ehm le guide insomma i materiali si erano fermati alla alla seconda quindi ci chiedevano di proseguire il percorso di completare tutto il il ciclo della della scuola primaria e quindi per questo motivo nel 2019 il progetto per contare conosce una seconda fase e ehm qual è l'obiettivo di questo di questo questa seconda fase è proprio proseguire quindi di costruire guide didattiche multimediali fruibili online e gratuite per le classi terza e quarta primaria. Naturalmente queste queste guide vengono costruite come nella prima eh nel primo progetto vengono costruite sulla base di ehm sperimentazioni che vengono condotte in alcune scuole che eh partecipano. Eh il gruppo di lavoro ehm di questa seconda fase è sempre ehm diciamo caratterizzato dalla presentazione della scusate dal coordinamento ehm del del nostro come fondazione ASPI ehm come come responsabilità scientifica c'è il l'università di Pisa e il finanziamento è quello della della fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo e quindi c'è un proseguimento diciamo con la fondazione per la scuola di eh nella collaborazione insomma su questo progetto. Ehm i referenti scientifici in questo caso sono cioè Anna Bacaglini Frank dell'Università di Pisa eh con Alessandro Ramplud e Silvia Funghi come segnisti di ricerca. In questo progetto in questa seconda fase sono coinvolte nella sperimentazione le scuole delle regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Ehm vi invito insomma tutti i materiali quindi tutti i materiali già realizzati nei precedenti anni si trovano sul sito e velocemente due parole sul sul sito vedete noi abbiamo questa è l'home page eh vi mostro insomma l'home page in modo particolare perché qui abbiamo stiamo caricando tutti i link ai webinar che abbiamo realizzato eh negli ultimi negli ultimi mesi e e quindi sono i link anche al webinar del 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 5 ci sarà quello del 5 di maggio ci sarà anche il riferimento il link al webinar la registrazione del webinar del dello scorso ehm dello scorso di martedì. Eh in particolare vi eh evidenzio eh diciamo le risorse che trovate in questa in questa sezione e soprattutto le guide qui trovate le guide di prima e seconda non entro perché ne abbiamo già parlato il ventitré eh le guide di prima e seconda tutti i materiali sono gratuiti eh dentro trovate anche i video delle dei corsi di formazione degli incontri formativi che sono stati svolti in passato e eh oggi si parla di terza eh e la guida per la terza al momento non c'è ma in modo preliminare oggi si accenerà ai contenuti insomma che ci sono che voi troverete eh per quanto riguarda la terza in settembre eh prossimo settembre duemila e duemila e venti e a questo punto mi taccio eh vi ringrazio per l'attenzione se non ci sono domande passo il diciamo il eh passo passo la palla ai relatori successivi. Grazie Anna eh invito tutti ad andare sul sito per contare perché eh appunto è davvero ricco di tantissime risorse eh passo eh la parola appunto ad Anna Baccalini Frank che introduce due tipologie eh di attività per la classe terza sperimentate quest'anno. Grazie Anna a te la parola. Grazie Chiara. Buongiorno a tutti e eh eh cominciamo subito eh con alcune caratteristiche del ecco qui ecco arrivanno ehm di per contare e in generale che sono trasversali e quindi sono caratteristiche di tutte le guide che attualmente esistono e che esisteranno eh nel progetto e mi soffermerò su qualcuna in particolare in questa diciamo breve eh introduzione. Benissimo favorire lo sviluppo di number sense ne abbiamo parlato molto in eh webinar precedenti e molti corsi di formazione precedenti. Interpretare ed elaborare rappresentazioni geometriche di figure e favorire la visualizzazione di proprietà dei numeri. Ne abbiamo parlato in particolare rispetto al nostro approccio alla moltiplicazione eh che abbiamo visto nel webinar del ventitré. Promuovere processi di argomentazione e generalizzazione. Ne parleremo ancora oggi abbondantemente. Usare diversi canali per l'accesso e la produzione dell'informazione. Questo è fondamentale eh proprio per garantire un'inclusività delle nostre proposte che eh diciamo pare essere eh estremamente significativa e efficace. Quello su cui mi voglio soffermare ora diciamo voglio parlare di due caratteristiche in particolari due tipologie di eh attività che noi proponiamo eh in particolare nelle guide eh di classi terza. E ecco in particolare l'uso di eh artefatti nella didattica laboratoriale. Sicuramente chi conosce già le guide eh sa che eh questi sono per esempio molti degli artefatti che usiamo nelle guide di prima e seconda. Voglio introdurre il nostro modo di eh progettare, pianificare, quindi eh presentare a voi anche eh i materiali didattici quando sono costruiti intorno all'uso di un artefatto. E farò un esempio con un artefatto per le classi terze. Questa è una eh realizzazione eh storica di quella che si chiama Stadera e questa è la nostra realizzazione con materiale povero come sempre della Stadera che abbiamo utilizzato nelle nostre sperimentazioni eh di quest'anno nelle classi terze. Allora che cosa significa? Che cosa pensiamo noi quando eh progettiamo le attività? Questo prima ancora di entrare in classe a proporle intorno ad un artefatto. Quindi cominciamo pure eh con l'esempio della Stadera. Ok. Allora in realtà già eh quando pensiamo Stadera abbiamo in mente particolari eh significati matematici. Ora ce ne sono moltissimi con cui ci si può mettere in relazione con quest'artefatto. Ne scegliamo alcuni che sono quelli che riguardano un particolare percorso di cui poi eh faremo esempi specifici nella seconda parte di oggi. Quindi mettiamo che vogliamo metterci in relazione con questo sapere matematico. Numeri razionali, frazione come operatore, misura. Ecco attenzione che eh la frazione ha tantissimi significati diversi. Ve ne parlerà Alessandro eh più tardi. Quindi in particolare ci mettiamo in relazione con questo sapere matematico e come facciamo a in qualche modo far emergere questo sapere attraverso l'uso di quest'artefatto? Beh progettando delle buone consegne. Ecco che una delle consegne che proponiamo con con la Stadera è questa. Parliamo ai bambini, questa è l'insegnante, quindi nelle guide si trovano esattamente le eh consegne che eh sono state presentate che chiediamo a voi di eh presentare ai vostri studenti. Oggi voi non lavorerete con riso ma con altri legumi o cereali. Prima avevano lavorato con riso quindi c'è sempre una certa continuità nelle proposte. Con il farro che avete a disposizione vi chiedo di fare dei sacchetti che pesano la metà di R. Provate a usare più ehm provate a essere più precisi possibile. Potete usare la Stadera ma il sacchietto di riso deve restare sulla cattedra. Ok? Quindi nella consegna ci sono anche particolari vincoli, ok? Si chiamano vincoli di lavoro che ehm consentono o diciamo favoriscono una particolare produzione di segni di risposte diciamo e segni da parte eh degli studenti. Quindi che cosa succede eh che cosa succede diciamo prima in questa fase di progettazione? Lavoriamo su questo triangolo evidenziato in verde e questa è la parte che noi eh dello staff di per contare facciamo per eh nelle guide e che offriamo già come come proposte strumento all'insegnante. Quello che poi deve succedere in una seconda fase è eh il lavoro in classe. Nel lavoro in classe si eh si lavora con le consegne già progettate eh appunto nelle guide l'artefatto e eh si chiede a agli studenti di rispondere. Nelle loro risposte costruiscono quelli che chiamiamo dei segni situati, dei testi, delle risposte che sono legate all'artefatto specifico ma che hanno un alto potenziale ehm diciamo nel loro significato per diventare più generalizzato e matematico. Ecco che l'attività dell'insegnante dopo questo eh lavoro sulla produzione di segni consiste nel portare piano piano secondo dei cicli o meglio delle spirali eh a ehm far diventare questi testi situati testi matematici e cioè a generalizzare i significati però nel significato generale rimarrà anche il significato specifico della eh dell'attività specifica che si è fatta con l'artefatto. E questa è l'idea che c'è dietro alla eh didattica laboratoriale con artefatti. E quindi questa è una tipologia. Una seconda tipologia eh rientra in quella cui abbiamo accennato essere delle buone pratiche per una buona partenza. Vi ricordate chi ha seguito il webinar del 23 eh le ha già sentite eh giusto per ricordarle eccole qui ma mi soffermo su su questo. Favorire la scoperta di significato di concetti e procedure. Nelle classi terze ehm facciamo una proposta eh diciamo un po' particolare in questo senso. Intanto rimaniamo un attimo sulla parola procedura perché abbiamo scelto questo. Beh per metterci come sempre eh in relazione con le indicazioni nazionali che parlano di procedure, procedimenti, algoritmi vediamo un pochino. Dice un'attenzione particolare andrà dedicata allo sviluppo della capacità di esporre, di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti. Questo è proprio nell'introduzione alla sezione matematica quindi parlano di procedimenti. Negli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza dicono nell'ambito dei numeri eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. Quindi procedimenti, procedure, algoritmi. Ok? Ci sono ehm diverse sfumature di significato in ciascuna parola eh che rimandano comunque a idee simili. Al termine della classe quinta troviamo eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l'opportunità di ricorrere al calcolo a mente scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. Fondamentale. Non sarò mai in grado di eh saper valutare e scegliere l'algoritmo, la procedura da usare a meno che eh io non abbia capito proprio i significati, quello che quello che c'è dietro. Perfetto. Lo stesso stimare il risultato di un'operazione. Questo è fondamentale sempre per per capire, per sviluppare competenza intorno intorno appunto alla all'uso dell'operazione e eh poi di nuovo in spazio e figure troviamo la parola procedimenti quando si parla di determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. Bene. Allora che cosa ce ne facciamo di questo? Abbiamo tirato fuori dalle indicazioni nazionali eh questi queste parole e che cosa suggeriamo noi? Diciamo le le indicazioni nazionali ci autorizzano in qualche modo a lavorare con le procedure ma suggeriscono ripetutamente di lavorare sui significati matematici e sullo sviluppo di competenze. Quindi attenzione non stiamo noi proponendo né lo dicono le indicazioni nazionali di utilizzare un insegnamento per imitazione di algoritmi calati dall'alto. Cioè io maestro o maestro ti dico come si fa e dopodiché tu lo devi ripetere mille volte nello stesso modo. Ecco quindi assolutamente non è questo che stiamo proponendo. Cerco di farvi capire invece che cosa stiamo proponendo oltre alla costruzione proprio con significato degli algoritmi come abbiamo visto nel caso della divisione. Bene quindi in linea con le indicazioni nazionali suggeriamo di introdurre procedure tramite costruzione attiva e partecipata e a partire dal significato di un particolare contesto per poi ampliarlo ad altri contesti e mai calare la procedura dall'alto. Inoltre e questa è una proposta che vedremo oggi possiamo proporre diverse procedure e discutere perché consentono di arrivare allo stesso risultato finale. Anche questo è un modo di pensare matematico fondamentale. Ci sono tanti modi di arrivare allo stesso risultato e qui sta un aspetto importantissimo della creatività in matematica e questa è una delle pratiche che proponiamo nelle attività di classe terza in particolare nell'ambito della moltiplicazione. Quindi quello che proponiamo è che accanto alla costruzione partecipata di procedure in classe proviamo suggeriamo di provare a proporre la cosa è andata molto bene nelle sperimentazioni di quest'anno alcune diverse procedure insegnate esplicitamente come occasione questo è fondamentale per poi attraverso il confronto promuovere apprendimento concettuale competenza. Quindi questa è l'idea che c'è dietro al secondo esempio che vedrete oggi dalle guide di classe terza. E con questo mi sembra di avere finito e vi ringrazio passo la parola a Alessandro e Silvia. Grazie. Grazie Anna. Non interromperei il flusso del discorso e magari rimando alle domande nella seconda parte del webinar che ce ne sono già alcune. Quindi grazie Anna, passerei la parola ad Alessandro per proseguire appunto con le attività per le terze. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Eccoci qua. Allora, oggi vorremmo proprio presentarvi, finalmente ci siamo, le guide per le classi terze della scuola primaria. Lo vorremmo fare usando due esempi specifici. Ci abbiamo pensato parecchio prima di arrivare a questa formulazione e poi ci è parso che fosse quella più funzionale. Allora, il primo esempio è quello delle frazioni con l'estadera, come anticipava Anna prima nell'intervento. E il confronto, poi nella seconda parte, è di due procedure per la moltiplicazione. Quindi da una parte il diagramma rettangolo, si vede lo schermo, scusate, mi è apparsa una comunicazione. Allora, adesso si ti vede, scusaci, prima non si vedeva, quindi puoi continuare tranquillamente. Grazie. Scusate. Scusate. Allora, dicevo, oggi vi presentiamo appunto due esempi. Uno è la frazione con la stadera. Mentre invece il secondo sarà il confronto di due procedure per la moltiplicazione. Abbiamo detto diagramma rettangolo e diagramma gelosia. Nella seconda parte, poi, del nostro intervento, proveremo a tracciare una brevissima anticipazione dei contenuti complessivi che caratterizzano l'organizzazione delle guide per la classe terza. Ora, partiamo quindi dalla frazione. Io credo che tutte le insegnanti sappiano, e gli insegnanti sappiano, che sono uno dei contenuti nodali della matematica insegnata nella scuola primaria. Per questo ci siamo concentrati molto su questo aspetto. Sono però anche uno dei contenuti su cui gli allievi trovano maggiore difficoltà. Le prove invalsi lo dimostrano, ma diciamo che ci sono tutta una serie di elementi anche di ricerca che ce lo confermano. Comunque, i due elementi su cui maggiormente si appuntano le difficoltà degli studenti sono il conflitto con i numeri naturali che in prima e seconda sono stati affrontati e quindi entrano in conflitto poi con la rappresentazione delle frazioni e soprattutto quella che anticipava anche Anna, cioè la polisemanticità della frazione che vedremo, cioè la moltiplicazione dei significati. Quindi, vediamo quali sono i conflitti con i quali si trovano i nostri studenti continuamente ingaggiati. Allora, molte delle difficoltà derivano dall'errata generalizzazione di alcune proprietà dei numeri naturali. Vi faccio alcuni esempi. Nell'insieme delle frazioni, per esempio, non esiste più un'unica frazione immediatamente precedente o successivo rispetto ad una data, mentre invece nei numeri naturali il 3 ha un precedente, il 2 è un successivo, il 4. Il risultato della moltiplicazione di un numero per una frazione non è necessariamente un numero maggiore di quello di partenza. Se moltiplicate per un mezzo, il numero si riduce e non aumenta. Se poi entriamo nei decimali, questo problema diventa altrettanto evidente perché per 0, il numero, come dicevamo prima, non aumenta ma diminuisce. Attenzione perché nei sussidiari in molti libri di testo è espressamente detto che la moltiplicazione aumenta e la divisione diminuisce. Non solo, ma la stessa frazione può essere rappresentata da scritture simboliche diverse, cioè le frazioni equivalenti. Io posso scrivere un mezzo e due quarti intendendo lo stesso identico elemento, ma questo non lo posso fare con il naturale. Non solo, ma come dicevamo prima, le frazioni hanno differenti significati, cioè possiamo sintetizzare in questo modo l'insieme dei significati più importanti, comunque di quelli fondamentali delle frazioni. Allora, la frazione come parte tutto, la frazione come punto su una retta, la frazione come operatore, la frazione come rapporto, la frazione come quotiente. Nel percorso per la classe terza la nostra attenzione si concentrerà soprattutto sulla frazione come punto su una retta e sulla frazione come parte tutto, quelle che vedete indicate dal rettangolo verde. Allora, bisogna prestare una particolare attenzione all'utilizzo degli artefatti che scegliamo. Avete visto prima l'introduzione di Anna che ha indicato questo in modo assolutamente specifico, perché per veicolare il significato delle frazioni come relazione parte tutto, in riferimento a quelle, per esempio, maggiori dell'unità, cioè maggiori dei uni. Se infatti, come in questo esempio, usiamo la classica torta, pizza, tavoletta di cioccolata, quello che volete, questo tipo di rappresentazione può creare, soprattutto nei bambini più fragili e con difficoltà, una serie di misconcezioni. Per esempio, se chiediamo ad un bambino di dividere un intero in quattro parti e prenderne cinque, estendendo alle frazioni maggiori di uno la presentazione standard delle frazioni minori di uno, la domanda che può sorgere spontanea è come faccio a prendere il quinto pezzo se ne ho a disposizione solo quattro. Per esempio, noi possiamo e sappiamo che per rispondere alla consegna indicata è necessario, dal nulla, aggiungere un altro intero. A questo punto non è più chiaro quale sia l'intero di riferimento, per esempio. E quindi, perché allora il bambino non dovrebbe rispondere cinque ettavi anziché cinque quarti? Fatte queste prime riflessioni su alcune delle difficoltà della presentazione della frazione in terza primaria, il progetto per contare propone una serie di approcci che possono aiutare l'insegnante per raggiungere un adeguato sviluppo del significato di frazione. Il primo elemento è la possibilità di utilizzare modi differenti di dire le frazioni. Come abbiamo visto, per esempio, nel webinar del 23 giugno, il riferimento ai numeri naturali pronunciati, come diciamo noi, quindi 11, 12, 13, o alla cinese 10, 1, 10, 2, 10. Il modo di dire standard, quindi quello, diciamo così, diffuso in occidente delle frazioni, è nel caso dell'esempio che vediamo tre quarti, ossia prima diciamo il numeratore e poi il denominatore. Questa è una cosa che può creare problemi soprattutto ai bambini con difficoltà. In Oriente la lettura delle frazioni è totalmente invertita, quindi si legge in questo modo, di quattro parti tre. Come si può notare, questa lettura è più trasparente rispetto alla prima, perché indica prima il numero di parti in cui si divide l'intero, il denominatore, e solo dopo le parti dell'intero che si prendono in considerazione, quindi il numeratore. Sulla base delle considerazioni fatte e delle difficoltà evidenziate c'è parso interessante il lavoro di Davido, il quale propone un curriculum progettato e sperimentato in Russia negli anni 60 e 70 per la scuola primaria. Nell'ambito della didattica della matematica evidenzia la necessità di introdurre un'idea di numero che riesca a includere sia i numeri naturali che frazioni e anche ovviamente i numeri reali. Questo elemento ci pareva potesse aiutarci ad approcciare la frazione come parte tutto e alla visione delle frazioni come punti su una linea dei numeri. In questo senso possiamo dire che Davido introduce l'idea del numero come misura. Cerchiamo di dettagliarla. La quantità è una caratteristica che rende confrontabili gli elementi di un insieme. Una quantità di riferimento viene scelta come unità di misura e indicata semplicemente con una lettera per esempio. I numeri vengono introdotti attraverso il rapporto tra la quantità da misurare e l'unità di misura appunto a cui fanno riferimento. Quindi diciamo che dal numero per contare si passa al numero per misurare. Ora come in parte vi è già un po' spoilerato Anna per trasporre didatticamente le riflessioni di Davido abbiamo recuperato un artefatto storico, la stadera che qui vedete rappresentata in differenti modalità. Allora per chi non lo sapesse, per chi magari ha un po' meno anni di me, la stadera è un antico strumento per la misurazione del peso. È composta fondamentalmente da tre parti che adesso vi faccio vedere. La prima è questo piatto su cui si appoggiano gli oggetti. Il romano che è praticamente il peso che servirà per misurare il peso dell'oggetto posto nel piatto e il braccio su cui scorre il romano. Come si intuisce in questa immagine, vicino alla posizione del romano troviamo un gancio che serve per appendere la stadera. Il sito per contare, che sarà disponibile come dicevamo nella parte della terza da settembre 2020 per tutti gli insegnanti italiani, propone un percorso formato da più attività che consente ai bambini di avvicinarsi in modo manipolativo alle frazioni. Nell'ultima parte di questo percorso si introduce l'artefatto stadera. Per esempio, nella fase preliminare l'insegnante propone alla classe di mettere in funzione la stadera per poi pesare alcuni oggetti. Fino a questo momento la stadera presente in classe non ha lo zero, quindi non ha nessun segno. Avete visto il braccio, anche prima quello che vi ho fatto vedere nell'immagine, è assolutamente vuoto da qualsiasi segno. Non ha lo zero sul braccio e il romano si trova in una posizione casuale. Eccolo qua. L'insegnante chiede ai bambini se hanno idee su come fare per rendere funzionante la stadera. L'insegnante guida la discussione perché emerge la necessità di mettere la tacca dello zero sul braccio. Non solo. Dovrà essere chiaro che il punto zero deve essere trovato in modo che il braccio sia in equilibrio orizzontale quando il piatto è vuoto. Vi anticipo che ovviamente nel sito trovate anche tutte le modalità per la costruzione della stadera con materiale di recupero o con materiale un po' più raffinato per chi ne avesse voglia e possibilità. A questo punto l'attività si articola in diverse fasi nelle quali l'insegnante propone delle consegne di lancio. In questo esempio che Anna vi ha fatto vedere prima all'interno del quadro di come si muove la nostra esplorazione, in questo esempio ne vediamo una legata alla pesatura di un sacchetto di riso. L'insegnante quindi propone alla classe di pesare un sacchetto di riso il cui peso verrà indicato con la lettera R sul braccio della stadera. Dopo aver pesato il riso ed aver indicato sul braccio della stadera il peso del sacchetto di riso con la lettera R, l'insegnante propone un nuovo problema. Qui vediamo proprio la consegna. Oggi voi non lavorerete con il riso ma con altri legumi o cereali, farro, ceci, lenticchie che avete a disposizione. Qui è chiaro che l'insegnante provvederà a prendere differenti materiali e fare dei sacchetti che pesino la metà di R. Provate a essere più precisi possibili, potete usare la stadera ma il sacchetto di riso deve restare sulla cattedra. Tutto questo non lo troviamo all'interno della guida della terza. Infatti nella guida troviamo anche un altro elemento per noi molto importante che crediamo sia molto utile per l'insegnante. Cioè una serie di indicazioni che aiutano l'insegnante ad interpretare le strategie che i bambini attiveranno per risolvere il problema posto dall'insegnante. Per esempio nel nostro caso possiamo identificare due possibili differenti strategie. La prima è la seguente. Riconoscere che il peso che si ottiene dividendo il peso R in due parti uguali corrisponde a metà della distanza di R dallo zero sul braccio della stadera. Vedete qui che viene posizionato il romano a metà della stadera. Posizionare quindi lì il romano e poi procedere con pesate successive a preparare un sacchetto che pesa la metà di R. Quindi prima colloco il romano e poi procedo per tentativo ed errore. Mentre la seconda è un po' differente. Vediamo di cosa si tratta. Allora prima potrebbero preparare un sacchetto che pesa quanto R, poi dividerlo in due sacchetti che pesano entrambi la metà di R. A questo punto pesando le due parti in modo che il romano si trovi sullo stesso punto del braccio. Vedete che qui il romano viene posizionato in un secondo momento dopo aver trovato, dopo aver diviso i sacchetti. Al termine della manipolazione deve sempre seguire un momento di discussione. Vedremo che questi elementi ritorneranno proprio nella disamina della guida e formalizzazione a grande gruppo. Qui riportiamo un esempio di questo passaggio. A questo punto quindi l'insegnante darà inizio alla discussione, i vari gruppi racconteranno cosa hanno fatto. Se una delle strategie indicate prima non è stata applicata nel subgruppo, l'insegnante può introdurla con uno stratagemme e chiede ai bambini e alle bambine che cosa ne pensano. Quest'idea dello stratagemme è molto importante perché per esempio se una delle due strategie che avete visto non è stata presentata, l'insegnante può anche dire in un'altra classe, una bambina ha proposto questa cosa, cosa ne pensano. Ma soprattutto alla fine della discussione la classe dovrà decidere cosa scrivere in corrispondenza della tacca. Cioè in sostanza dovrà emergere che il punto o la tacca in cui si colloca romano si chiama un mezzo R. Se ora proviamo a fare qualche osservazione sull'esempio presentato possiamo dire che la quantità utilizzata è il peso, l'unità di misura è rappresentata dal peso di uno specifico sacchetto di riso. Gli studenti stimano e misurano le frazioni di diverse unità utilizzando altri materiali, quindi un mezzo R non ha più una relazione con uno specifico sacchetto di riso ma solo delle unità di riferimento. È evidente da queste... e quindi emerge una relazione tra la frazione come operatore su diverse quantità di peso e il posizionamento della frazione sulla retta attraverso il posizionamento della tacca sul braccio della stradera. Quindi questa modalità di approccio alla frazione è coerente con il modello di Davido e può aiutarci soprattutto con i bambini in maggiore difficoltà. Uno degli aspetti particolarmente significativi su cui l'insegnante dovrà prestare particolarmente attenzione è la transizione dall'artefatto fisico alla sua rappresentazione iconica alla formalizzazione delle frazioni su una linea. In questo senso sarà importantissimo richiedere spesso rappresentazioni grafiche della stradera per enfatizzare eventuali transizioni simboliche. Anna ci ha ricordato prima l'importanza della transizione verso i testi, quelli che chiamiamo i testi situati, quindi le rappresentazioni non ancora formate. In conclusione possiamo dire che la stadera non viene tanto usata come strumento per pesare quanto per ragionare su relazioni tra pesi diversi oggetti e il funzionamento della stadera, cioè il posizionamento del romano su braccio, riflette queste relazioni trasponendoli come frazioni lungo una linea. Siamo quindi di fronte alla frazione come numeri sulla linea. Molto importante, come abbiamo già sottolineato prima, è il passaggio dalla manipolazione dell'artefatto alla rappresentazione che simula la stadera, rappresentazione ovviamente situata e successivamente la transizione al posizionamento sulla linea dei numeri. E con questo concludo l'intervento e passo la parola alla collega Silvia Funghi. Grazie Alessandro, ti chiederei solo di rimanere ancora in camera un attimo perché ci sono due domande specifiche sulla stadera che farei subito. Silvia se vuoi rimani anche tu come come preferite, perché credo sia meglio farle adesso perché sono proprio specifiche sull'attività. Allora, ci chiedono se i bambini lavorano con più stadere o con un'unica stadera per classe e come fisicamente riescono a trovare la metà della stadera. Ok, allora, prima risposta, nella pianificazione nostra iniziale la stadera era una stadera unica, grande, che veniva costruita per la classe e i bambini utilizzavano queste cose. Il problema sarà l'anno prossimo, didattica a distanza o in quanto meno la condivisione di materiali che sappiamo essere un grosso problema. Allora, abbiamo preparato, ed è già dentro al sito ma non visibile, sarà visibile dal settembre, anche la possibilità di costruire una stadera con dei materiali di recupero, una per ogni bambino. Si fa in modo molto semplice prendendo un appendiabito di quelli di metallo, una cocottina di alluminio, bucandole e mettendoci un filo e poi attaccando sotto all'appendiabito una piccola patata con un elastico che fa da romano sostanzialmente, scorre e si trova questa cosa. Come fanno? Sì, tecnicamente devono provare, cioè devono fare degli esperimenti. Come avete visto ci sono strategie differenti, quelle che ho spiegato prima, che possono condurre i bambini a trovare questa soluzione, cioè come faccio a trovare la metà del peso? Ho trovato un peso che so che è lì e quindi so che in fondo arrivo lì. Devo trovare la metà di quel peso, quindi devo spostare ovviamente il romano, una delle possibilità è sposto il romano e poi faccio pesate successive finché non arrivo a trovare l'equilibrio. L'alternativa è trovo un oggetto, comincio a riempire il mio sacchettino, lo appoggio sulla stadera e vedo se portando la metà trovo l'equilibrio oppure no. Queste sono le due modalità. Volevo puntualizzare una cosa su questo, dopo risparisco. Non è del tutto corretto, non si parla della metà della stadera ma invece correttamente, come diceva Alessandro, la metà di un peso. Abbiamo parlato della metà di R e quindi R sarà una tacca, esattamente questo il punto, e noi potremmo trovare la metà di quella grandezza. Quindi la stadera potrà avere diverse metà se la tariamo con diverse unità di riferimento. Il sacchettino di riso infatti, sì grazie infinite Anna, il sacchettino di riso non abbiamo volutamente inserito il peso del sacchetto di riso perché io lo colloco quando riempio il mio sacchettino di riso e ovviamente dovrà avere una stadera che sia tarata per poterlo pesare perché è evidente che c'è anche questo problema, però una volta che io ho tarato la stadera metto il mio sacchettino di riso, segno R sul braccio sostanzialmente, ho segnato prima lo zero, ho segnato R, a questo punto un mezzo R è un mezzo di quello spazio che si viene generando tra zero e R. A questo proposito mi viene subito da farti quest'altra domanda che ci hanno scritto che riguarda credo proprio questo tema perché ci dicono l'uso di materiale con un peso specifico diverso nell'opzione in cui bisogna fare due sacchetti partendo da uno che ha lo stesso peso di quello del riso ci chiedono se è utile comunque prevedere l'uso della bilancia oppure altrimenti come fare? No, no perché in realtà come dicevo alla fine quello che non interessa è che si sleghino dall'idea della specificità del peso dell'oggetto se noi abbiamo se noi abbiamo tarato la stadera con il sacchetto di riso abbiamo indicato che quello R la metà di R sarà sempre il peso di qualsiasi oggetto che noi andiamo a prendere ma che ha un peso che è la metà di R fondamentalmente non tanto che sia piombo piuttosto che rame. Esatto quindi attenzione che dobbiamo slegarci dall'idea del metà volume non stiamo parlando di metà volume stiamo solo parlando di pesi e in particolare se uso oggetti con pesi specifici diversi non avrò che la metà di R è realizzato da un sacchetto con metà del volume del sacchetto che realizza R perché è solo un peso. Potrebbe addirittura capitare che il sacchetto se il peso specifico dell'oggetto è minore che il sacchetto di un mezzo R sia più voluminoso del sacchetto del riso e quindi di R o del materiale che ho pesato a cui ho siglato con R. Questo è possibile ma questo ci interessa perché non stiamo ragionando in termini di misurazione con una bilancia di peso ma stiamo ragionando sulla distribuzione sopra il braccio delle tacche e quindi della possibilità di mettere su una linea dei numeri le frazioni. Perfetto ti ringrazio Alessandro di questi chiarimenti ci sono altre domande che però sono un po' più in generale sulle attività quindi le farei alla fine passerei quindi la parola a Silvia Funghi che invito a ricomparire e poi dopo ci riaggiorniamo Alessandro per le altre domande. A te la parola Silvia. Sì grazie mille buongiorno a tutti. Ok allora ditemi se va tutto bene insomma segnalatemi se ci sono problemi. Tutto bene vediamo lo schermo quindi puoi partire con la presentazione. Benissimo grazie. Io vado a entrare insomma nel secondo esempio che appunto accennava inizialmente che ha accennato sia Anna sia poi Alessandro e sulle proposte appunto delle guide per la classe terza. L'esempio di cui parlerò io riguarda in particolare il secondo punto che nominava Anna ovvero appunto il confronto di procedure. Un altro dei nodi fondamentali dell'apprendimento della matematica nella scuola primaria a nostro avviso riguarda infatti l'apprendimento delle procedure di calcolo e del loro significato matematico. Infatti è noto come vi siano difficoltà di alcuni bambini sulla memorizzazione di procedure di calcolo, difficoltà nella costruzione dei significati matematici alla base delle procedure e in particolare come queste difficoltà siano legate a proprio all'apprendimento delle procedure standard le quali si concentrano principalmente sul canale comunicativo verbale o visivo verbale. Per quanto riguarda i canali comunicativi più nello specifico rimando alla presentazione di Anna Baccaglini dello scorso webinar del 23 giugno. Entriamo quindi nel vivo del secondo esempio di oggi. Intanto vado un attimo a dare un'idea delle procedure che abbiamo preso in considerazione. A sinistra vedete che abbiamo una moltiplicazione con diagramma rettangolo mentre a destra vedete un esempio di moltiplicazione per gelosia o moltiplicazione araba. La moltiplicazione per gelosia era in realtà un algoritmo di moltiplicazione molto diffuso fin dal medioevo che poi però è stato abbandonato con l'introduzione della stampa per difficoltà a riprodurre proprio la griglia nei libri per mezzo di stampa. La moltiplicazione con diagramma rettangolo, in questo caso vedete un diagramma rettangolo che rappresenta la moltiplicazione 12 per 14, funziona calcolando l'area del rettangolo assegnando il valore 1 ad ogni quadratino e quindi in particolare andiamo esattamente a contare quanti quadratini vanno a comporre il rettangolo così disegnato. La moltiplicazione per gelosia invece funziona moltiplicando ogni cifra di uno dei fattori con ogni cifra dell'altro. Il risultato dei singoli prodotti viene trascritto all'interno della griglia. Per esempio qui abbiamo sempre una griglia che corrisponde alla moltiplicazione 12 per 14 e se per esempio andiamo a moltiplicare la cifra del 2 del 12 con la cifra del 4 del 14 abbiamo che il prodotto 2 per 4 è 8 e andrà posizionato in questo triangolino in basso a destra. Nel caso in cui avessimo avuto come moltiplicazione 13 per 14 e quindi avessimo voluto moltiplicare il 3 del 13 con il 4 del 14 avremmo avuto come prodotto 12 che saremmo andati a posizionare nella griglia in questo modo scrivendo quindi la cifra del 2 delle unità del 12 nel triangolino sempre in basso a destra mentre l'1 che rappresenta il 10 della decina del 12 l'avremmo inserito in questo triangolo in alto. Quindi come vedete questa quella che riportiamo più in generale è una delle schede operative su cui hanno lavorato gli studenti durante le nostre sperimentazioni e come potete vedere la consegna è quella di eseguire lo stesso calcolo quindi la moltiplicazione 12 per 14 con differenti procedure e scoprire che il risultato non cambia però si evidenzia qualcosa di diverso. Qui possiamo vedere l'innesco per attivare richieste di argomentazione proprio attraverso l'uso di domande come spiega il perché che è un po' diverso dal chiedere semplicemente dimmi come hai fatto perché appunto il nostro intento è quello di portare gli studenti a costruire quantomeno dei tentativi di giustificazione delle osservazioni che hanno fatto. Come si può facilmente osservare il diagramma rettangolo mantiene la cardinalità cioè come abbiamo visto appunto io trovo il risultato della moltiplicazione andando proprio a contare materialmente insomma i quadratini che compongono il diagramma rettangolo mentre il diagramma gelosia non la mantiene assolutamente infatti abbiamo visto che il suo funzionamento verte sulle cifre dei fattori letti secondo la notazione posizionale quindi appunto i numeri sono espressi in unità decine e centinaia. In questo slide potete vedere appunto uno dei protocolli realizzati e se osservate le scritture notate che i bambini sviluppano il calcolo in modalità leggermente differenti. Qui vedete per esempio il calcolo sviluppato in relazione alla moltiplicazione col diagramma rettangolo mentre qua sulla destra vedete quello sviluppato in relazione al diagramma a gelosia. Dopo che le bambine e i bambini hanno lavorato a piccoli gruppi è stato chiesto loro facendo questo lavoro cosa avete notato? Il risultato è uguale ma avete fatto lo stesso modo? Riuscite a spiegarmi il perché? le richieste sono progettate e questo vale insomma per tutto quello che riguarda le guide di terza sono progettate per spingere i bambini e le bambini verso tentativi di argomentazione ancora situate quindi non formali perché appunto la formalizzazione viene rimandata ad un momento successivo. In questa immagine abbiamo evidenziato ciò che il bambino viene portato ad argomentare con queste continue richieste di chiarimento del perché. Nella parte relativa al diagramma rettangolo che è quello che vedete qui sulla sinistra si può vedere che i calcoli effettuati corrispondono alla scomposizione del diagramma rettangolo in questo modo ok? Ho evidenziato la scomposizione proposta dal bambino con delle linee rosse tratteggiate mentre nella parte relativa alla gelosia i bambini hanno operato come richiesto appunto dall'algoritmo con moltiplicazioni che coinvolgono soltanto le cifre dei fattori. La richiesta di confronto può sopportare dopo varie prove l'osservazione da parte dei bambini che i prodotti calcolati con questo secondo metodo quindi con la gelosia non hanno tutti lo stesso significato. Per esempio questo 4 che è dentro al quadrato rosso in realtà non sta per quattro unità ma per quattro decine come si vede invece appunto dal riquadro qua in basso che è stato preso appunto da uno dei protocolli di risposta e di spiegazione. Bensì questo 4 sta per 4 per 10 ovvero 40 ok? Quindi lo stesso 40 che si è ritrovato a sinistra nel diagramma rettangolo. Questo esempio quindi ci permette in particolare di evidenziare i seguenti aspetti caratterizzanti dell'approccio alle procedure del progetto per contare. Come primo punto ci permette di evidenziare l'attenzione verso la scelta di procedure che mostrano i significati rispetto a procedure che li celano per un primissimo approccio all'algoritmo in calcolo e l'attenzione quindi anche a percorsi che permettano il consolidamento del significato matematico dell'operazione attraverso le procedure di calcolo, attraverso più di una procedure di calcolo scusate. E come secondo punto chiaramente il confronto di procedure come possibilità di argomentazione. Osserviamo che chiaramente questo è l'approccio che noi abbiamo cercato di implementare nelle guide ma se un insegnante che diciamo si approcciasse adesso per la prima volta alle guide di terza volesse appunto utilizzare le nostre proposte pur avendo già introdotto gli algoritmi standard per le operazioni lo può tranquillamente fare perché appunto l'introduzione di procedure alternative è sempre possibile e in particolare lo riteniamo un mezzo utile per spingere gli studenti ad argomentare e riflettere sia sui significati matematici sia sulle differenze tra i vari algoritmi. Quindi dopo aver visto due esempi specifici di proposte contenute nelle guide per la classe terza quindi abbiamo visto appunto l'attività sulle frazioni e questa attività di confronto fra procedure andiamo ad illustrare in modo più generale quindi la struttura delle guide. Ogni nucleo concettuale affrontato all'interno delle guide viene suddiviso in una serie di attività. Le attività sono proposte in un ordine logico e cronologico che è stato attentamente studiato e che quindi vi invitiamo a seguire. Ogni attività è suddivisa al suo interno in diverse fasi. Ogni fase può essere realizzata all'interno di una lezione di circa un'ora. Tuttavia se l'insegnante ha più di un'ora a disposizione può scegliere se estendere appunto la durata della realizzazione della fase oppure se accortare più fasi in una sola lezione. Ogni fase al suo interno è composta di tre momenti fondamentali lancio, esplorazione e discussione come forse avete avuto anche modo di notare dalla presentazione dell'attività sulla stadera che ha fatto Alessandro poco fa. Il lancio costituisce l'inizio della lezione ovvero l'input con cui l'insegnante comincia la presentazione dell'argomento del giorno. Qui in basso abbiamo voluto riportare un'immagine di come risulta per esempio una parte di lancio all'interno proprio del sito che stiamo andando a costruire. L'esplorazione invece costituisce la parte centrale della lezione in cui gli alunni esplorano possibili soluzioni relative ad una consegna postata all'insegnante. La parte di discussione costituisce la parte in cui l'insegnante chiede agli alunni di restituire a tutti le proprie riflessioni sull'esplorazione svolta e successivamente orchestra tra tutti una discussione tra tutti in modo tale da far emergere gli aspetti chiave delle varie soluzioni. Oltre a questi tre momenti volevamo anche evidenziare la parte delle conclusioni in cui abbiamo cercato di riassumere la parte in cui l'insegnante ricapitola quanto è emerso durante la lezione e ne sottolinea in poche parole gli aspetti essenziali. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della guida ricordiamo che le guide sono pensate per essere uno strumento multimediale quindi in particolare al loro interno troverete riferimenti ad altre parti del sito video o audio di sperimentazioni condotte in classe video o audio tutorial per la costruzione dei materiali e video o audio con consigli degli esperti. Possono essere quindi percorse in differenti modalità scegliendo anche tematiche specifiche da sviluppare in classe. Consigliamo quindi a tutti coloro che ne volessero usufruire di scegliere un percorso per cominciare e di seguirlo tutto dall'inizio alla fine tenendo presente che molti significati vengono costruiti in modo ciclico o meglio a spirale in anni successivi. Consigliamo di nuovo a tutti coloro che vogliano seguire i materiali proposti all'interno della guida di tenere traccia in maniera molto diffusa di quanto realizzato in aula questo chiaramente attraverso quello che si ha a disposizione che possa essere audio o videoregistrazione appunti scritti foto e così via e soprattutto di riprendere diciamo ciclicamente o meglio appunto a spirale gli argomenti che vengono trattati via via. Questo perché ci rifacciamo un po' a quello che è il pensiero di Brunner sull'apprendimento a spirale nel quale bisogna far tornare gli alunni in modo ricorrente sugli stessi argomenti ma con continui cambiamenti di punto di vista. Quando si torna al concetto dopo averlo approfondito è possibile infatti fare diverse analisi e rappresentazioni di ciò che era stato analizzato in precedenza. Per questo riteniamo importantissimo appunto documentare diffusamente quello che viene via via realizzato in classe e soprattutto quelle che sono le produzioni degli studenti. Come esempi di argomenti che si possono riprendere via via, vogliamo ricordare per esempio la composizione e scomposizione dei numeri naturali o per esempio anche le operazioni che appunto è un argomento che diciamo va, ricopre tutto l'arco della scuola primaria. Come progetto per contare in questo senso abbiamo anche voluto diciamo spalmare su tutto il triennio dalla classe terza alla classe diciamo in previsione, vorremmo che fosse spalmato anche sulla classe quinta, quello del concetto del contenuto della frazione per l'appunto che quindi riteniamo sia utile introdurre chiaramente in terza ma riprendere poi nelle classi successive e in questo senso noi riprendiamo anche a spirale se vogliamo lo strumento del diagramma rettangolo che come abbiamo visto nei webinar precedenti si può introdurre in seconda per fare, per diciamo realizzare una trattazione delle tabelline, poi appunto si può riprendere per lavorare sull'algoritmo della moltiplicazione e infine si può usare poi delle classi successive alla terza per introdurre l'area del rettangolo. Questa è la pianificazione quindi dei contenuti delle guide per la classe terza. Come vedete i nuclei concettuali che siamo andati ad analizzare sono misura, moltiplicazioni, frazioni, divisioni e geometria piana. Nonostante l'anno scolastico sia stato chiaramente problematico come tutti sapete queste parti sono tutte state sviluppate e testate in classe. Mancano solo alcuni elementi legati alla geometria quindi all'ultimo l'ultimo contenuto e una maggiore definizione del materiale sulle frazioni, questo perché per evidenti motivi a un certo punto dell'anno abbiamo dovuto interrompere appunto le sperimentazioni in classe. In questo senso diciamo durante il prossimo anno scolastico contiamo moltissimo sull'esperienza che faranno gli insegnanti sperimentatori sulle classi interse e che appunto speriamo ci permettano di riuscire diciamo a terminare la trattazione di questi contenuti. Questo è un esempio di come potrebbe risultare la scansione dei nuclei tematici all'interno del sito per contare e poi ci sembrava importante anche ricordare che oltre alle guide sulle attività da svolgere in classe abbiamo anche realizzato alcuni software di supporto alla didattica come per esempio il software per la divisione canadese, quello per la moltiplicazione gelosia e stiamo lavorando, ancora non è terminato ma insomma prevediamo di riuscire a terminarlo per la pubblicazione delle guide, di un software per la moltiplicazione con diagramma rettangolo. Infine abbiamo lavorato ad un software in due versioni, come vedete Snap, in una versione utile per lavorare con l'artefatto fisico Geoombot e in una versione invece per lavorare con la costruzione di percorsi virtuali. Come le guide anche questi software saranno disponibili per tutti gli iscritti al sito di per contare a partire da settembre 2020. E infine chiudo questa presentazione mostrandovi delle immagini prese appunto da alcuni dei software che abbiamo sviluppato. In particolare vedete qui sulla sinistra un'immagine presa dal software per la divisione canadese mentre sulla destra vedete appunto un'immagine presa dal software per la moltiplicazione per gelosia. E io concludo e ripasso la parola a Chiara. Grazie. Grazie mille Silvia della spiegazione puntuale di queste attività su cui ci sono arrivate un po' di domande. Per procedere in questo modo chiederei a tutti di riapparire in camera in modo da fare l'ultimo rush di domande che ho diviso già un po' per quelle generali e quelle relative poi alle specifiche attività didattiche che avete illustrato. Quindi inizierei da quelle più relative in generale al progetto a cui chiederei di rispondere a Paola. Un attimo arrivo. Allora ci chiedono in molti come come diciamo poter aderire al progetto ed entrare nella sperimentazione da varie regioni. Quindi diciamo che ora Paola ci spiegherà un po' meglio come funziona questa parte. Chiedono un po' a tutti se la data in cui verranno pubblicate le guide di terza e se è possibile averla un po' prima di settembre. E poi se rispetto alla fruizione del sito web come docente, studente o genitore, se cambiano i contenuti a cui si è accesso. Quindi queste sono le prime domande. A te Paola. Va bene, parto dall'ultima. Non ci sono differenze. È una precisazione che noi facciamo sempre. Le guide si rivolgono ai docenti. Naturalmente durante il periodo del... perché si parla di attività didattiche. Non è che il genitore si mette a casa a lavorare. Insomma, si può fare qualcosa, però ci deve essere sempre una linea di continuità tra quello che si fa a scuola e quello che si fa a casa. Anche perché il progetto per contare, come è sempre stato detto, si basa su attività didattiche che prevedono la collaborazione tra i bambini, la scoperta e quindi va fatto in classe. Abbiamo dovuto quindi fino a prima dell'emergenza covid non era possibile, diciamo, entrare nel visionare i suoi materiali da parte di altri che non fossero insegnanti. Quindi da parte dei genitori e anche qualche studente universitario di scienza della formazione era consentito a qualcuno. Però ci siamo accorti che durante l'emergenza abbiamo messo a disposizione una serie di materiali, software già sviluppati nel precedente progetto e avevamo una necessità nel momento in cui l'insegnante consigliava questi eserciziari a casa, avevamo una necessità che i genitori potessero entrarvi. E quindi abbiamo a questo punto, date le numerose richieste, sbloccato e sbloccato anche per gli studenti universitari che vogliono approfondire. Quindi non c'è differenza al momento su varie tipologie di iscritti, anche se i moduli di iscrizione sono completamente diversi, però naturalmente la precisazione è fatta, è materiale che si rivolge alle scuole. Punto numero due, parlavi della, cioè numero due, diciamo, una delle domande era, si rivolgeva alle regioni. Allora, la sperimentazione coinvolge poche classi, perché? Questa è una scelta su cui adesso può intervenire in modo preciso Anna, però la scelta dipende dal fatto che abbiamo la necessità di lavorare bene e di seguire queste sperimentazioni e gli insegnanti vengono veramente seguiti. Finché c'era la presenza c'erano incontri frequenti in presenza, c'erano delle attività in classe che vengono anche condotti in alcuni momenti da alcuni dei referenti scientifici. Non abbiamo la possibilità di estendere, perché alla fine non si farebbe un lavoro serio. Quindi noi abbiamo deciso, insieme ai referenti scientifici, di fare un lavoro serio e di poi consentire a tutti, perché la ricaduta deve essere a livello nazionale, a tutti di accedere a questi materiali. Vengo un attimo, Paola, grazie. Ecco, precisando cosa vuol dire lavoro scientifico serio, allora tantissimi materiali che vengono pubblicati in varie forme, anche a pagamento, vengono dal niente, da diciamo pratiche di uno o più docenti che si sono poi seduti lì, si mettono a pubblicare quello che a loro funziona bene in classe. Le nostre proposte non sono progettate e sperimentate in questo modo. noi usiamo un paradigma di ricerca che si chiama design based research e abbiamo tutta la fase di progettazione che viene fatta secondo dei principi di design che devono essere esplicitati prima, dopodiché sperimentiamo, come diceva Paola, in realtà con due cicli di sperimentazione, alla fine di ciascun ciclo analizziamo i risultati ottenuti dalla sperimentazione e riadattiamo i materiali per migliorarli rispetto ai principi di design, quindi è estremamente diverso come prodotto rispetto ad altro. Ecco, grazie Anna per questa importante precisazione, infatti molti ci chiedono, molti insegnanti ci mandano anche tante richieste su questo e Anna puntualizza. Per quanto riguarda quindi le regioni, avendo poche classi a disposizione abbiamo scelto la linea di individuare le regioni in cui lavoriamo noi, quindi c'è la regione Piemonte perché è l'ente finanziatore del Piemonte, la Toscana perché i referenti scientifici, l'università è di Pisa, quindi in Toscana e poi c'è la fondazione Aspi che è in Emilia Romagna, quindi questa è stata la scelta. Quindi al momento abbiamo, potete immaginare, abbiamo tantissime richieste per partecipare alla sperimentazione, ma siamo sommessi così. Per quanto riguarda le guide, la guida è di terza, ci rendiamo conto che sia indispensabile e importante per i docenti interessati accedere e guardare prima possibile i materiali, stiamo facendo, credeteci, delle supercorse perché naturalmente la sperimentazione è data avanti fino alla fine della scuola, quindi i materiali li stiamo revisionando, guardando, insomma ci sono anche video e foto di bambini, quindi la testimonianza di come fare un'attività o di come è stata fatta, quindi anche raccogliere liberatoria non è stato facile, ci stiamo veramente lavorando e abbiamo ben presente l'esigenza entro settembre, entro primi di settembre, se ce la facciamo il nostro obiettivo è anche, non lo dichiariamo, insomma neanche tra di noi ce lo dichiariamo, però il nostro obiettivo è proprio quello di se riusciamo ad aprire prima. E se non ci sono altre domande, facevo una piccola, su questo, sugli aspetti generali del progetto, una piccola precisazione, anche se è nei fatti ma ci tenevo a farla, questi tre webinar che abbiamo svuoto dal 5 di maggio ad oggi, noi li consideriamo molto importanti per chi ci segue, per chi poi accederà a queste guide, anche le guide di terza, perché ad esempio si è parlato della divisione per svuotamento, giustamente grazie Silvia prima hai mandato delle immagini che rimandano anche al software, nel webinar del 5 di maggio Alessandro Lamplut, Silvia Funghi e Roberta Munarini hanno proprio parlato di un'attività in classe sulla divisione per svuotamento con diciamo l'aggiunta di quello che è stato fatto in realtà perché l'attività è stata fatta a distanza, quindi di come questa attività può essere svolta a distanza. Quindi volevo solamente precisare che c'è un filo di continuità tra il webinar del 5 e quello di oggi, quindi noi vi invitiamo a guardarli tutti in modo particolare sui diagrammi rettangolo, giustamente Silvia oggi non è andata nel dettaglio, ma perché l'altro ieri proprio Anna Baccaglini ha fatto proprio un intervento su quello, quindi veramente tenete in considerazione questo, sarà tutto pubblicato come registrazioni sul sito e in più noi li metteremo questi video come approfondimenti nei contenuti proprio delle attività della guida a cui accederete prima possibile. Grazie, scusate per, insomma, se ho tirato un altro tema. Paola, hai fatto benissimo a specificare questa parte, insomma, come dicevamo ieri, magari anche noi proviamo a, come dire, ripubblicare, rinviare ai nostri utenti magari una newsletter con i webinar in successione in modo che abbiano tutto, diciamo, ben chiaro rispetto ai contenuti a cui fate poi riferimenti, diciamo, incrociati. Proseguirei con le domande, prima alcune generali proprio sulle guide e in particolare una sulla valutazione. Ci dicono appunto che si vede che sono lavori sinergici e multidisciplinari, si lavora con compiti autentici anche in situazione e quindi ci chiedono se ogni attività comporta poi della realizzazione e l'ideazione di utili valutative specifiche con le poi relative verifiche formative e comunque in generale ci chiedono in più di uno come effettuare, come poter procedere con la valutazione rispetto a queste attività illustrate. Forse, non so, Anna, se vuoi dare tu una risposta, diciamo, più generale e poi andiamo su... Va bene, poi forse Alessandra ha delle cose un pochino più specifiche. Allora, il nostro progetto non nasce esplicitamente sulla valutazione, ok? Quello che diceva Silvia prima sulla conclusione di ciascuna attività è fondamentale perché rimanga nella memoria storica della classe. In realtà quello che abbiamo visto nelle sperimentazioni è che durante le attività, visto che intervengono tutti i bambini e ci sono produzioni costantemente fatte da tutti i bambini, è molto facile anche valutare in itinere e lavorare costantemente sulla valutazione formativa dando i feedback appropriati a ciascun bambino. Al momento non abbiamo schede esplicite, diciamo, di verifica, tra virgolette. Alcuni insegnanti sperimentatori credo abbiano messo a punto alcune risorse, al momento non le stiamo condividendo, ma è una cosa che possiamo prevedere di includere entro la fine del triennio del progetto. Alessandro, se avevi altro... Esatto, Alessandro, se vuoi aggiungere... Se posso aggiungere un elemento direi che, come confermo ovviamente quello che ha detto Anna, nel senso che noi non abbiamo delle triglie di valutazione costruite anche perché il progetto in realtà giustamente non si centra sul discorso della valutazione. Quello che noi però proponiamo e che abbiamo cercato di dire in più passaggi sia io che Silvia è la documentazione, cioè questo è l'elemento fondamentale attraverso il quale l'insegnante può costruire anche tutta una serie di elementi valutativi e qui ovviamente può costruire griglie per esempio di tipo delle rubric per l'analisi del lavoro di gruppo piuttosto che delle osservazioni diaristiche o narrative che raccontano invece che cosa avviene all'interno del gruppo classe. Credo che questo sia fondamentale. Primo perché ovviamente come progetto per contare ci rivolgiamo anche a una pluralità di persone per cui dare a qualcuno una struttura di valutazione di un certo tipo potrebbe anche non risultare consono nel senso che io possa non utilizzarlo, non essere in grado di utilizzarlo, non volerlo utilizzare. Quindi è un discorso anche di libertà di insegnamento. Per cui la proposta nostra è favorire soprattutto documentazione, raccolta di protocolli dei bambini quando i bambini scrivono, raccontano, narrano. Come diceva Silvia, protocolli video, per esempio uno dei problemi nostri delle guide che Paola accennava prima è proprio il fatto che la guida è una guida integrata, cioè c'è una parte testuale sì che per esempio potrebbe essere già pubblicata ma la parte che supporta la parte testuale è una parte video, audio con tutti i materiali che raccogliamo dai bambini e che ci mostrano come i bambini si muovono. Su quello si possono fare delle valutazioni incredibili e le insegnanti almeno che hanno sperimentato così ci hanno testimoniato in questi mesi. Un lavoro un pochino più specifico, poi chiudiamo questa domanda e invece sta venendo fatta e verrà pubblicata sull'argomentazione perché abbiamo visto che parecchia difficoltà da parte degli insegnanti e sperimentatori a riconoscere e distinguere spiegazioni diciamo di elenchi di passaggio fatto 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 da un'argomentazione che va veramente al cuore dei perché e quindi alla comprensione. In questo senso stiamo lavorando anche delle schede che possono essere utilizzate sia dai bambini per un'autovalutazione che dall'insilio e valutazione reciproca, quindi verranno scambiate tra i bambini sia per l'insegnante per capire a che punto è un particolare bambino nel suo lavoro sull'argomentazione. Ecco quindi su questo invece prevediamo un lavoro un pochino più esplicito anche proprio sulla valutazione. Grazie Anna, proseguo con delle domande invece più specifiche sulle attività presentate e insomma valutate poi anche le paro a chi ha parlato delle varie attività ovviamente poi chiunque può integrare come preferite. Sulla stadera una domanda molto secca come costruire, cosa utilizzare per il romano come elemento e poi in riferimento a quello che appunto avevi illustrato sul mezzo ci chiedono se si potrebbe proseguire l'attività proponendo di trovare la metà della metà in modo da proseguire insomma con l'attività insomma con la comprensione delle altre frazioni. Allora primo elemento il romano si ottiene con un qualsiasi peso dicevo nella costruzione della se lo vogliamo fare con materiali di recupero si prende una patata gli si fa la si lega la si attacca a un ciappetto che scorra sulla sull'appendino c'è tutta questa roba c'è tra l'altro mi preme sottolineare di nuovo che dentro le guide è presente il tutorial per costruire la nel senso che se avete bisogno anche di questa cosa c'è spiegato ce l'ha fatto gentilmente una studentessa di matematica che sta bravissima si è laureata da poco che mi piace ricordare che viola giusti e perché ha fatto un lavoro egregio da questo punto di vista e ha proprio fatto il tutorial per come si costruisce quella che vedete nelle immagini quindi potete realizzare quella lì se volete mettete all'opera papà mamme mamme nonne falegnani quello che volete allora è importante però sapere che dentro trovate tutto spiegato c'è anche un tutorial per costruire che ripeto sarà disponibile dal settembre per costruirlo per farlo costruire ogni bambino a casa con questa questo sistema del di mettere si possono utilizzare le cose più basta che siano che si possano appendere sostanzialmente al braccio va bene qualsiasi oggetto pesante che possa permettermi di fare una funzione di contrapeso fondamentalmente questo è quello che si può dire primo secondo sull'attività non so se risposto poi se c'è un'altra domanda rispondo ancora sull'attività certo l'aveva pensata zenone questa cosa nel senso che la metà della metà della metà della metà possiamo andare avanti anche abbastanza cioè possiamo andare avanti abbastanza in sostanza su questa cosa e anzi giocare su questo col discorso delle frazioni secondo me è un inciampo cognitivo molto interessante che si può affrontare in mille modi dall'aspetto narrativo appunto raccontando la storia di achille e la tartaruga arrivando fino appunto al discorso più matematico della scoperta appunto delle frazioni sulla linea dei numeri e quindi della possibilità di suddividere progressivamente lo spazio tenete conto che l'impostazione del passaggio dal numero come quantità al numero con misura che dicevamo è l'aspetto fondamentale di questo parametro cioè noi abbiamo la possibilità di costruirci tutta questa serie di regressioni anche all'infinito fondamentalmente e quindi di esplorare con i bambini un universo che matematicamente è molto interessante complesso ma secondo me merita meritano i bambini di essere esposti anche delle difficoltà di questo tipo grazie alessandro e soprattutto i bambini con difficoltà mi raccomando perché questo non è per i bambini bravi e base per i bambini difficoltà cioè per chi è in difficoltà si fa fatica questa è la scelta nostra ed è molto importante dirlo perché altrimenti passiamo per quelli che fanno le robe solo per chi ha delle qualità particolari non è questo il senso il senso è coinvolgere integrare includere tutti i bambini questo è il progetto di aspi e questo è il progetto di per contare grazie alessandro della puntualizzazione tra l'altro mi collego proprio ad una domanda insomma su questo che però rivolgo a silvia perché riguarda appunto la la modificazione l'attività spiegata poi da lei allora ci chiedono se ritenete ancora valida la scelta di operare con il calcolo in colonna e soprattutto nel caso di ragazzi discalculici quindi insomma di chiedere di fare un'osservazione su questo allora il nostro diciamo che appunto come accennavo prima nelle slide il nostro punto di vista è quello di operare sempre con più di una procedura sempre dove possibile ecco dove dove si può insomma è preferibile farlo e in particolare di magari diciamo di utilizzare le procedure diciamo di scegliere quale procedura introdurre prima in classe in base diciamo al suo grado di trasparenza rispetto ai significati matematici cioè cosa intendo dire che se appunto per esempio nell'esempio che ho fatto io sulla moltiplicazione il diagramma rettangolo è un po più trasparente nel senso che il bambino vede sempre quello che deve contare fondamentalmente ok quindi la la rappresentazione è assolutamente trasparente rispetto al prodotto dei due fattori e del quale viene chiesto il risultato ad una parentesi quindi come dice silvia questa è la procedura che proponiamo davanti a maggiori difficoltà esatto esattamente e quindi in particolare diciamo introdurre più di una procedura e che quindi che giochi su diversi aspetti anche della rappresentazione del numero permette a ciascuno di trovare quella dove si trova più a suo agio cioè quella che gli permette di raggiungere il risultato con meno patica mettiamola così o comunque se gli permette di operare facendo delle scelte all'interno del quale il bambino si può muovere con una buona autonomia ecco e quindi nel senso cioè non so se c'è una scelta veramente diciamo migliore per tutti i pulici ecco nel senso probabilmente no ma nel senso il punto è che non c'è questa cosa non è vera nemmeno per chi non è discalculico cioè ognuno di noi ha il suo stile di apprendimento ok e quindi ciascuno di noi adopererà diciamo la rappresentazione del tipo di algoritmo che ritiene appunto più funzionale a quelle che sono le sue attenzione scusa si interrompo di nuovo però abbiamo dei protocolli bellissimi di bimbi di terza che sono stati introdotti a queste due procedure per la moltiplicazione e quello che troviamo è che ci fa molto piacere perché questa è in linea con diciamo la matematica e col pensiero matematico lo stesso bambino sceglie di usare una o l'altra a seconda del tipo di calcolo che che ha da fare ok quindi non c'è una risposta giusta non c'è la procedura migliore non c'è la procedura migliore per i dislessici o per i discalculici a parte che sono categorie estremamente disomogenee quindi c'è però la possibilità di scegliere e c'è la possibilità per ciascuno di capire con quale si trova meglio l'algoritmo della moltiplicazione a gelosia che ha presentato Silvia è estremamente leggera da un punto di vista cognitivo cioè una volta fatta la costruzione questo può essere pesante della diciamo della struttura dopodiché si tratta soltanto di fare moltiplicazioni tra numeri a una cifra di solito gli studenti la preferiscono o meglio una grande maggioranza degli studenti dice che la preferisce perché non la sbaglio ho meno possibilità di sbagliare devo solo fare queste moltiplicazioni a una cifra e tutto quanto cade in posizione ok è però non so il perché quindi per andare a capire perché possiamo utilizzare i diagrammi rettangolo e possiamo usare i diagrammi rettangolo e la scomposizione fondamentalmente la proprietà distributiva per andare a capire anche l'algoritmo della moltiplicazione in colonna perché no però ecco non suggeriamo di sicuramente partire dalla moltiplicazione in colonna così come in generale dalle operazioni in colonna perché rendono meno visibili significati di riferimento grazie aggiungo proprio una cosa cioè nel senso come ovviamente immagino che tutti sapranno però le operazioni in colonna in generale sono molto dense cioè sono un condensato di proprietà delle operazioni messi in modo tale da far funzionare l'algoritmo quindi diciamo che è questa caratteristica delle operazioni in colonna che insomma ci fa dire che potrebbe che può essere come diceva anna noi l'abbiamo ne abbiamo toccato con mano nelle nostre sperimentazioni che appunto presentare algoritmi diversi che facciano magari riferimento ad altri tipi di rappresentazione del numero può essere vantaggioso proprio per questo motivo ecco perché in un certo senso permette di rendere visibili delle cose che nelle operazioni in colonna sono molto contratte sono molto condensate insomma all'interno dell'algoritmo se si prende il software della moltiplicazione per gelosia che abbiamo messo a punto ci abbiamo lavorato tantissimo è stato molto complesso perché una delle cose che abbiamo cercato di realizzare è che quell'algoritmo non fosse un algoritmo che guida il bambino c'è una un'altra calcolatrice ma resta che fosse un foglio bianco c'è un foglio dove il bambino può commettere errori perché questo è l'aspetto importante prima si chiedeva della valutazione se io non vedo l'errore io non sono in grado di stabilire nulla dal punto di vista della valutazione men che meno della certificazione delle competenze che è l'elemento fondamentale della valutazione della primaria secondaria di primo grado e emita grazie alessandro e sempre sulle moltiplicazioni per gelosia ci chiedono nella guida viene proprio illustrato passo passo come fare nel senso di sì quindi insomma non approfondirei perché si trova tutto appunto nelle hanno delle schede dove possono scaricare delle griglie vuote avranno dei tutorial per la costruzione di una griglia generica e l'algoritmo viene spiegato passo passo quindi assolutamente certo quindi nelle guide c'è tutto e di Andrea Pacioli fra Andrea Pacioli del 2494 in cui descrive perché si chiama così la moltiplicazione per gelosia che ora andrò a leggere perché sono troppo curiosa un'ultima domanda se riusciamo velocissimamente anche solo un riferimento ci sono tantissime domande ancora ma purtroppo il tempo è finito ci chiedono dei suggerimenti per inserire le guide all'interno diciamo del programma scolastico non so se ci sono già dei suggerimenti pubblicati sul sito su come incastrare diciamo le attività se ci sono suggerimenti di questo tipo anche rispetto all'uso magari di altre metodologie diciamo relazione a quello che insomma sono i contenuti scolastici e poi se c'è anche un riferimento dei materiali sui principi del design della ricerca di cui parlava prima Anna sempre pubblicati sul sito cioè se c'è un riferimento specifico di pubblicazione insomma da cercare da leggere ok allora posso provare io sul rispetto al riferimento ai programmi attenzione c'è una distinzione grossa tra programmi e immagino spesso eh in quella domanda ora non ho la persona che l'ha fatta davanti a me ma eh spesso si parla del programma tipo quello in un sussidiario quella è una scelta del sussidiario non sono le indicazioni nazionali ok e spesso ci sono diciamo delle scelte forti fatte dai sussidiari che che appunto sono scelte ma non sono diciamo eh proposte dalle indicazioni nazionali le nostre proposte sono assolutamente allineate con le indicazioni nazionali ok quindi con i traguardi gli obiettivi per classe terza e poi per classe quinta eh se uno è è abituato e come giustamente eh fa a seguire a inserire dei contenuti eh diciamo soliti all'interno della terza la quarta e la quinta ehm può ovviamente continuare a farlo non è che facciamo altra matematica facciamo esattamente la stessa matematica le frazioni sono sempre frazioni sono numeri razionali le operazioni sono sempre le le operazioni di riferimento quindi i contenuti sono gli stessi i tempi sono diversi i i nostri tempi appunto sono non non sono affronto l'argomento lo inizio lo chiudo ed è finita lì e poi passo ad altro molto spesso sono percorsi che si portano avanti anche su più anni e quindi bisogna fare un po' di attenzione eh per esempio uno potrebbe dire va bene provo a fare l'anno prossimo tutto come faccio normalmente però le frazioni come vengono proposte in per contare e questo è un nostro consiglio è una delle modalità secondo noi che si possono utilizzare per introdurre gradualmente dei cambiamenti nella propria didattica però se si sceglie di fare così allora suggeriamo di ehm guardare tutte le attività che proponiamo in classe terza faccio faccio per dire sulle frazioni averne un'idea chiara e scaglionarle diciamo durante l'anno e attaccare gli altri contenuti che si vogliono affrontare in altri modi intorno a questo percorso rispetto ai principi guida allora stiamo eh scrivendo articoli di ricerca eh ci sono non sono attualmente pubblicate da nessuna parte però eh sono diciamo verranno descritte nelle nelle nuove guide pubblicate a settembre stiamo cercando di andare un po' leggeri sulla teoria perché proprio per non appesantire anche la lettura comunque metteremo sicuramente degli approfondimenti per chi fosse interessato eh perché già questi contenuti sono un pochino più difficili perché vanno più al cuore della matematica rispetto a tante altre proposte e quindi cerchiamo di non appesantire con ulteriori teorie comunque metteremo sicuramente i riferimenti benissimo eh con questo io direi di concludere perché siamo già oltre tempo massimo e grazie per essere rimasti insomma anche questo tempo in più per rispondere alle tante domande che sono arrivate ehm ripeto tutti i contenuti verranno pubblicati sul sito di riconnessioni eh nella sezione dei webinar e grazie ancora a tutti i relatori e buona giornata a tutti grazie a voi grazie a voi grazie buona giornata arrivederci grazie a voi 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 gra